Questa sera vogliamo dare il benvenuto a quest'atmosfera carnevaresca con un interverso comico in un atto, la Pecchinata di Sanieri. È uno spumezzato e scherzo carnevaresco. Colombina ha promesso in cambio di due anelli, contemporaneamente sia da Pecchino che a Frighella, la sua mano. Quando i due scoprono l'indroglio, ne chiedono voto a Colombina, la quale, per quanto singolare. Tutti e tre si penderanno e il primo che prenderà la facciulla la veste sola. Ma mentre i due cercano disperatamente di afferrare Colombina, la facciulla si travesse la strega bruttissima e si fa contemporaneamente pigliare del dolore del nello. Vi auguro quindi un buon ascolto, presentandovi innanzitutto gli artisti che si esibiranno. Al piano poste accogliamo la pianista Soraya Zaidi. Interpreterà Colombina il soprano Carlo Arcego, Arlecchino il tenore Fabio Lanni, Brighhella il baritono Andrea Romeo. Vi auguro buon ascolto. Grazie. 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 Mi sono colombina. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.